Ci siamo... Non l'ho sentito, stavo facendo... Ok. Secondo voi a cosa serve l'Italia? A te serve questa unità d'Italia oggi? Che senso ha dirsi italiani, anche in relazione magari agli tumori della mostra? Dirsi italiani è molto ottimista secondo me, nel senso che è più una speranza che una realtà. Diciamo che non siamo ancora riusciti a fare l'Italia, secondo me sarebbe un bel progetto riuscire a farlo un giorno, ma non siamo ancora sicuramente. Quali potrebbero essere gli strumenti per costruirla? C'è una politica migliore, ma è abbastanza dura da entrambe le pazioni. C'è una politica partitica, quindi? Una politica che si è politica e che non sia strumentale, a prescindere da come la si vede. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie a voi.